Sono numeri importanti e non solo per la Val Chiavenna o la provincia di Sondrio. Lo stabilimento Alexia 2 delle trafilerie alluminio Alexia di Gordona è infatti un impianto che vede investimenti per 25 milioni di euro e che porta in dote 49 posti di lavoro. Al taglio del nastro anche il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, occasione questa per fare il punto sul settore alla luce della inevitabile transizione ecologica. Questo nuovo stabilimento, così importante e significativo, peraltro in realtà così produttiva della nostra Italia è un esempio e un modello di quello che può e deve essere la transizione ambientale che deve coniugarsi con la competitività del sistema industriale. Qui diamo l'esempio di come l'Italia si avanti nel campo della siderurgia anche rispetto agli altri paesi europei e di come questo si possa fare al meglio utilizzando anche gli impianti di energia rinnovabile. L'Italia resta la seconda forza in Europa per il settore manufatturiero dopo la Germania. Oggi però conta anche come le aziende stanno affrontando la transizione ecologica. Bene che il gruppo Agnelli, impresa familiare giunta alla quinta generazione, continui ad investire in Val Chiavenna, un'aria interna con tutto ciò che questo comporta in termini di svantaggi competitivi. Inauguriamo la quarta linea che è un nuovo stabilimento di fronte allo stabilimento fatto 30 anni fa dalle trafilerie Aluminio Alexia. Con questa linea noi siamo pronti per la transizione ecologica, siamo pronti a produrre profili per treni, per aerei, per pullman, per camion, per auto che devono per forza convertirsi alla leggerezza e alla sostenibilità ambientale. L'azienda è stata fondata dal Baldassare Agnelli nel 1907. Per l'occasione il presidente del gruppo Alexia, Paolo Agnelli, sono arrivati gli incoraggiamenti tramite il video messaggio del vice premier Matteo Salvini e del ministro dell'ambiente della sicurezza ecologica Gilberto Picchetto Frattin. Un messaggio scritto è giunto invece dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. La giornata gordona ha coinvolto anche gli amministratori locali. Il presidente della comunità montana Val Chiavenna, Davide Trussoni, ha detto «Mai come in questo periodo ci serve un'iniezione di fiducia, siamo orgogliosi di ospitare in valle una realtà come questa». Frasi non dette a caso, perché Trussoni ritiene che l'indispensabile area industriale di Gordona dovrà crescere anche in tema di servizi come parcheggi e ciclabile. Del resto, il claim usato da Alexia è stato «Benvenuti nel futuro». «Benvenuti nel futuro».